Musica Questa nuova campagna è una campagna che abbiamo costruito insieme ad Artemisia e insieme all'agenzia Catoni che ci supporta da anni per rispondere a due esigenze la prima è far conoscere la gente che esiste a Firenze un centro antiviolenza che è specifico per aiutare le donne che chiedono aiuto la seconda è quella di ricordare sempre e comunque tutti i giorni che ci sono dei segnali deboli, delle frasi, dei momenti che possono essere banalizzate ma che se viste con l'occhio giusto possono accendere una lampadina e far capire che si vive in una situazione di pericolo e non di amore o di amore burrascoso come a volte si pensa abbiamo preso a riferimento le frasi tipiche che utilizzano le donne quando chiamano il centro antiviolenza di Artemisia e appunto iniziano a raccontare e poi iniziano a giustificare il compagno ma mi chiama sempre, ma poi si pente, ma poi mi chiede scusa, ma poi mi dice che mi ama queste frasi le abbiamo messe su degli slogan accompagnate da una definizione che non è amore e violenza non vogliamo certo banalizzare, però si spera di accendere un faro a chi vedrà questa campagna e capire che certe frasi a volte nascondono delle realtà pesanti grazie a tutti